Ha pescato il Trabzonspor, Trebisonda, insomma, speriamo di non perderla, sta Trebisonda. Lo sai perché si dice perdere la Trebisonda? Dimmi, no, dimmi, dimmi. Una domanda, dimmi, lo sai o non lo sai? No, non lo so, dimmi. Allora, è successo tanti anni fa, diciamo, alto medioevo, Trebisonda era una città che era un po' il faro di quel territorio, di quell'enclavo, per cui tutti, diciamo, le carovaniere, che portavano merci in giro per il mondo conosciuto allora, avevano come Trebisonda il faro, il punto di incontro per i loro commerci. Per cui perdere la Trebisonda significava sperdersi, non trovare la rotta giusta, la rotta ovviamente via terra giusta. per arrivare dove dovevano arrivare. Per cui è rimasta un po' idiomatica questa frase, cercare di non perdere, non la, Trebisonda, nel senso di un posto. Sì, chiaro, chiaro, ecco. Questo è una curiosità. Certo. Poi sono successe anche tante altre cose. Ad esempio, a noi sembra un posto lontanissimo, quasi mitologico, quasi favolistico. Trebisonda, a livello sportivo, è il quarto club della Turchia. non è che si è poi messo malissimo. Poi ho letto, tra l'altro, che è l'unico club turco che non è di Istanbul, che ha vinto il titolo nazionale. Il primo club non di Istanbul a vincere uno scudetto, chiamiamo uno scudetto anche se in Turchia si chiama in altra maniera. Ne hanno vinti otto, però l'ultimo risale a trent'anni fa, nel stagione 83, se non erro, per cui sono ricordi abbastanza lontani. Ricordiamo però che nel 2010 questi hanno vinto la Coppa di Turchia, per cui tanto scarsi non sono. Hanno uno stadio rifatto un sacco di volte, adesso contiene 25 mila persone. Il terreno è in erba, non è sintetico, per cui con condizioni che ovviamente non possiamo sapere. Certo, a febbraio cosa sarà. A metà febbraio circa, quando la Juve andrà a giocare lì, non sappiamo ovviamente come sarà. Speriamo bene. La prima è in casa e questo sicuramente non è un vantaggio, si tratterà subito di mettere le cose in chiaro, un bel 3-4-0, poi si va lì a fare veramente un po' di turismo come si usava ai vecchi tempi. Ultima cosa carina, sai perché al minuto 61esimo i tifosi del Trebisonda fanno un casino, del Trabzonsport, fanno un casino sugli spalti? No, al 61? Perché? Perché nel 1461, guarda caso, è caduto l'impero di Trebisonda e a distanza di 600 erotti anni, se lo ricordano ancora, e ogni volta che capita in una partita del Trabzonsport, il minuto 61, tu vedi nelle curve, nelle tribune, un movimento particolare. Ho capito. Dovesse succedere come succederà alla Juve, che lo sappiano che non è che è scoppiata una bomba, ma è una tradizione che si perpetua da una vita. Bene, grazie per questa informazione. Ehi.